La scimmia Sandra, che abita ad Esio, si è messa le dita nel naso e gli si sono incastrate. Non escono più, l'hanno dovuto portare al pronto soccorso. La scimmia sta male, portiamola all'ospedale. Che strano animale, la scimmia continua a cantare. È dura la vita, mi si sono incastrate le dita. Aiuto dottore, non so più come far. Vieni un po' qui, vieni qua, un rimedio si troverà. Non ridere più, che se no aiutarti in un ruoto. La talpa Luciana, che è amica delle scimmie, è andata lì e gli ha fatto il solletto sotto le accelle e le dita sono uscite da un'altra. Adesso la talpa Luciana è diventata dottoressa vetrinaria e la scimmia Sandra si fa il solletto da sola. Che è meglio! Mi scusi dottore, ma siamo già qui da tre ore, le stesse parole la scimmia continua a cantare. E' dura la vita, mi si sono incastrate le dita. Aiuto dottore, non so più come far. Vieni un po' qui, vieni qua, un rimedio si troverà. Non ridere più, che se no aiutarti non potrò. Quando è così, sai che fo' a curarmi ci penso da me. Un dito qui, l'altro là, e la vita più bella sarà. E la vita più bella sarà. E la vita mi piace di più. E la vita più bella sarà.